è il poliziotto dei casi impossibili tu sei il male e io sono la cura è un duro è l'uomo delle emergenze chiama il cobra detestato per i suoi metodi temibile implacabile io vado pazzo per la conversazione per il ciclo i duri di rete 4 silvester stallone cobra sabato 21 20 in america viene commesso un furto ogni 11 secondi un'aggressione ogni 65 secondi un reato di sangue ogni 25 secondi un omicidio ogni 24 minuti e 250 violenze carnali al giorno tu sei il male e io sono la cura cobra giovedì 21 maggio alle 20 e 30 su rete 4 in america viene commesso un furto ogni 11 secondi un'aggressione ogni 65 secondi un reato di sangue ogni 25 secondi un omicidio ogni 24 minuti e 250 violenze carnali al giorno tu sei il male e io sono la cura cobra giovedì 21 maggio alle 20 e 30 su rete 4 è il poliziotto dei casi impossibili tu sei il male e io sono la cura è un duro è l'uomo delle emergenze chiama il cobra detestato per i suoi metodi temibile implacabile io vado pazzo per la conversazione per il ciclo i duri di rete 4 silvester stallone cobra sabato 21 e 20 in america viene commesso un furto ogni 11 secondi un'aggressione ogni 65 secondi un omicidio ogni 24 minuti e 250 violenze carnali al giorno tu sei il male e io sono la cura cobra giovedì 21 maggio alle 20 e 30 su rete 4 è il poliziotto dei casi impossibili tu sei il male e io sono la cura è un duro è l'uomo delle emergenze chiama il cobra detestato per i suoi metodi temibile implacabile io vado pazzo per la conversazione per il ciclo i duri di rete 4 silvester stallone cobra sabato 21 e 20 in america viene commesso un furto ogni 11 secondi un'aggressione ogni 65 secondi un reato di sangue ogni 25 secondi un omicidio ogni 24 minuti e 250 violenze carnali al giorno tu sei il male e io sono la cura è il poliziotto dei casi impossibili tu sei il male e io sono la cura è un duro è l'uomo delle emergenze chiama il cobra detestato per i suoi metodi temibile implacabile io vado pazzo per la conversazione per il ciclo i duri di rete 4 silvester stallone cobra sabato 21 e 20 in america viene commesso un furto ogni 11 secondi un'aggressione ogni 65 secondi un reato di sangue ogni 25 secondi un omicidio ogni 24 minuti e 250 violenze carnali al giorno tu sei il male e io sono la cura cobra giovedì 21 maggio alle 20 e 30 su rete 4 è il poliziotto dei casi impossibili tu sei il male e io sono la cura è un duro è l'uomo delle emergenze chiama il cobra detestato per i suoi metodi temibile implacabile io vado pazzo per la conversazione per il ciclo i duri di rete 4 silvester stallone cobra sabato 21 e 20 in america viene commesso un furto ogni 11 secondi un'aggressione ogni 65 secondi un reato di sangue ogni 25 secondi un omicidio ogni 24 minuti e 250 violenze carnali al giorno tu sei il male e io sono la cura cobra giovedì 21 maggio alle 20 e 30 su rete 4 è il poliziotto dei casi impossibili tu sei il male e io sono la cura è un duro è l'uomo delle emergenze chiama il cobra detestato per i suoi metodi temibile implacabile io vado pazzo per la conversazione per il ciclo i duri di rete 4 silvester stallone cobra sabato 21 e 20 è il poliziotto dei casi impossibili tu sei il male e io sono la cura è il poliziotto dei casi impossibili tu sei il male e io sono la cura è un duro è l'uomo delle emergenze chiama il cobra detestato per i suoi metodi temibile implacabile io vado pazzo per la conversazione per il ciclo i duri di rete 4 silvester stallone cobra sabato 21 e 20 cobra sabato 21 e 20 tu sei il male e io sono la cura è un duro è l'uomo delle emergenze chiama il cobra detestato per i suoi metodi temibile implacabile io vado pazzo per la conversazione per il ciclo i duri di rete 4 silvester stallone cobra sabato 21 e 20 in america viene commesso un furto ogni 11 secondi un'aggressione ogni 65 secondi un reato di sangue ogni 25 secondi un omicidio ogni 24 minuti e 250 violenze carnali al giorno è il poliziotto dei casi impossibili tu sei il male e io sono la cura è un duro è l'uomo delle emergenze chiama il cobra detestato per i suoi metodi temibile implacabile io vado pazzo per la conversazione per il ciclo i duri di rete 4 silvester stallone cobra sabato 21 e 20 in america viene commesso un furto ogni 11 secondi un'aggressione ogni 65 secondi un reato di sangue ogni 25 secondi un omicidio ogni 24 minuti e 250 violenze carnali al giorno tu sei il male e io sono la cura è il poliziotto dei casi impossibili tu sei il male e io sono la cura è un duro è l'uomo delle emergenze chiama il cobra detestato per i suoi metodi temibile implacabile io vado pazzo per la conversazione per il ciclo i duri di rete 4 silvester stallone cobra sabato 21 e 20 in america viene commesso un furto ogni 11 secondi un'aggressione ogni 65 secondi un reato di sangue ogni 25 secondi un omicidio ogni 24 minuti e 250 violenze carnali al giorno tu sei il male e io sono la cura è il poliziotto dei casi impossibili tu sei il male e io sono la cura è un duro è l'uomo delle emergenze chiama il cobra detestato per i suoi metodi temibile implacabile io vado pazzo per la conversazione per il ciclo i duri di rete 4 silvester stallone cobra sabato 21 e 20 grazie 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 a tutti.